Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'anticiclone africano, dopo essersi ritirato per un breve periodo verso sud-ovest, ritenta una nuova rimonta verso il Mediterraneo. Questa volta lo farò in grande stile, pertanto attendiamoci un cospicuo rialzo delle temperature nei prossimi giorni su tutto il territorio italiano. Attenzione alla solita instabilità pomeridiana lungo la catena appenninica. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per martedì 20 giugno. Cieli soleggiate al mattino su gran parte delle regioni. Nel pomeriggio formazione di nuvolosità sparsa sul Salento e sulle zone montane della Basilicata, ma senza rischio di precipitazioni di rilievo. Altrove i cieli rimarranno sereni o poco nuvolosi. Serata più calda ovunque con cieli che tornano sereni. Le temperature, come notiamo dalla grafica, risulteranno in sensibile aumento di 4-5 gradi, soprattutto nei valori massimi, con punte che torneranno a toccare e superare i 30 gradi. Vento ancora settentrionale, specie lungo le coste adriatiche, in attenuazione in serata. Mari poco mosso all'Adriatico, calmo invece allo Ionio. Ed ora ecco la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Alfonso Zuccalà, che ci mostra la potenza del mare a causa del forte vento di tramontana che ha sferzato le coste adriatiche nei giorni scorsi. Qui siamo a Roca Vecchia, nel Salento. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.